Tutto pronto per la 727esima edizione della perdonanza celestiniana, la cui parola d'ordine sarà ancora una volta sicurezza. Si sta curando molto questo aspetto, anche se c'è da dire che già lo scorso anno i protocolli anti-covid hanno funzionato benissimo. La novità di quest'anno è il Green Pass, di cui bisognerà essere muniti per partecipare agli eventi e che si dovrà esibire all'ingresso. Ma per chi non lo ha, il Comune ha predisposto la possibilità di fare tamponi gratis, previa prenotazione, nelle due farmacie comunali di Coppita e Pettino, che da tempo sono organizzate anche per fare i vaccini. La nostra ambizione è quella di stare sempre al passo e farlo nel migliore dei modi possibili. L'anno scorso ci siamo prodigati per rendere fruibile un evento in un momento in cui nessuno faceva eventi. Quest'anno, oltre tutte le restrizioni dell'anno scorso, in più abbiamo il Green Pass. Per poter consentire a tutti quanti di poter accedere agli eventi, anche a chi non è vaccinato, abbiamo messo a disposizione i tamponi gratuiti. Speriamo che questo qui, unito al buonsenso delle persone, possa contribuire a creare una manifestazione assolutamente sicura e bella. Per quanto riguarda il Green Pass, andrà esibito? Vi siete organizzati con dei lettori? Ci sono dei lettori, degli scanner, che con il QR code del Green Pass accerteranno la presenza dello stesso e le persone potranno accedere agli eventi. Quindi o con vaccino o con tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Il Comune da tempo lavora al piano di sicurezza, con il vantaggio di essere già lo scorso anno riuscito a far filare tutto liscio. Intanto a Collemaggio si sta montando il parco per gli spettacoli e anche la copertura, che eviterà di rovinare l'erba del prato antistante La Basilica. E qui davanti alla Basilica di Collemaggio fervono i preparativi. Come vedete, gli operai alle nostre spalle stanno montando le tribune che ospiteranno, accoglieranno i partecipanti agli spettacoli della perdonanza celestiniana. Anche il palco, il montaggio del palco è quasi ultimato, quindi si stanno portando avanti gli ultimi dettagli per essere pronti ai primi appuntamenti che ci saranno il 23 agosto. Sedie distanziate e posti larghi nelle tribune, con un sistema di ingressi e uscita separati che ormai è collaudato. E questo anche per gli spettacoli alla scalinata di San Bernardino. Mentre da questa mattina, dopo i problemi al sistema per l'acquisto dei ticket, le persone hanno iniziato a poter prenotare gli spettacoli.